Stai vloggando anche tu? Siamo arrivati all'aeroporto di Bologna che mi viste e mi porta anche alla lounge L'anze si beve gratis Da mangiare non c'è tutto sotto neanche, però gratis Quindi Botto vuoi dirmi davvero che riusciamo a saltare la coda? Tutta, qua c'è la coda, qua c'è Botto Allora, dissi, ho la mia borraccina di marketers piena Ovviamente me l'hanno tanata al controllo Vuoi berla? C'è quello che avrà avuto tipo, secondo me, almeno un mese quell'acqua lì Andrea, come procede il tuo vlog? Sono le friskies con la mascherina Ciao, io sono la host della casa Uh, danke Permesso! Certo che li massacriamo Sto andando da Luca in barca per fare altre call Io e Luca siamo andati a mangiare Siamo ubriachi con neanche mezzo litro di vino Oh, oh 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 La, 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 la I dove in to the deep end Cause I thought I could swim We break up every weekend Oh, oh 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 Was it gonna be like that? Oh, I just wanted you so bad Playing with my mind was that your intention? Cause I'm missing you Oh, oh 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 Cause I'm missing you Vale mi è venuto a prendere Stiamo dirigendo verso la barca E direi che siamo pronti Non andate mai a fare la spesa con Matti Bonetti Perché ha paura di morire di fame Certo Voleva prendere 16 uova 8 banane 4 mele Solo 4 mele siamo in 6 Siamo salpati dal porto di Alghero Il fornello flottante Una genialata Grazie per la visione Il lancio del marketer's world Prima scelta 9 Sono tutti a letto È una figata svegliarsi in mezzo al mare Sei pronto? Grazie a tutti Grazie a tutti è arrivato Luca lo scappista ci vediamo nel prossimo vlog ciao